A causa di un incidente la statale 14 della Venezia Giulia è temporaneamente chiusa il traffico a Musile. Per causa in corso di accertamento un'autovettura è uscita fuori strada sbandando in maniera autonoma. Il conducente è deceduto. La circolazione è provvisionalmente indirizzata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS, i carabinieri e i vigili del fuoco per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il nuovo Jesolo Sand Nativity inizierà a prendere forma lunedì 6 novembre. A partire da quel giorno infatti i 14 artisti della sabbia, chiamati a coinvolgere i visitatori della celebre Natività, inizieranno la loro opera di scolpitura. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di allestimento della tensostruttura, che per due mesi sarà la casa delle loro opere fino al 4 febbraio e quelli di trasporto della sabbia da modellare in gran parte proveniente dalla vicina piazza Brescia, dove aveva assunto la forma delle sculture dedicate all'arte contemporanea. In queste ore sono state installate le casseforme che contengono l'arena ed è iniziata la fase di compattamento, cui seguirà la scolpitura fino a domenica 19 novembre. Anche quest'anno, come avviene dal 2004, la manifestazione è associata a diversi progetti benefici. La generosità dei visitatori fa raccogliere ogni anno risorse che vengono devolute ad associazioni confini umanitari. Fino ad oggi sono stati raccolti ed evoluti più di 900.000 euro in progetti umanitari in tutto il mondo. La ventunesima edizione dello Jesolo San Nativi ti assume il titolo di Sulle Orme di Francesco D'Assisi, un percorso che racconterà la vita di San Francesco D'Assisi attraverso 12 episodi chiave, proprio a 800 anni dalla creazione e da parte del poverello D'Assisi del primo presepe della storia a Greccio. Questi momenti verranno rappresentati da 14 artisti provenienti da tutto il mondo, scultori e professionisti coordinati dal nuovo direttore artistico della manifestazione, il canadese David Usharm, e grazie alla preziosa collaborazione del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Un incontro dove raccontare l'azione e lo sviluppo della criminalità organizzata nel territorio del Veneto orientale e i suoi effetti sul tessuto economico e sociale. A tessere le fila della situazione attuale e di quella passata sarà il giornalista del Gazzettino Maurizio Dianese. Giornalismo di inchieste e criminalità organizzata nel Veneto orientale. E' appunto il tema dell'incontro che si terrà domani sera, venerdì 27 ottobre, alle ore 20 al Caffè Letterario di San Donati Piave. Sandonatese di nascita, Dianese è considerato tra i massimi esperti sui fatti di malavita del nord-est, avendo lavorato per una vita inchiesta e reportage famose tra le tante sono state proprio le sue interviste a Felice Magnero e Silvano Maritan. Nel pomeriggio di martedì a San Donati Piave i carabinieri hanno arrestato un 42enne italiano nativo del Trevigiano, ma da anni residente nel Sandonatese, gravato da pregiudizi penali e di pulizia e su cui pendeva un ordine di esecuzione per l'espiazione di una pena detentiva. All'uomo è stato notificato il provvedimento detentivo emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino a seguito di tre distinte condanne divenute definitive per la pena complessiva della durata di 5 anni e 11 mesi di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate commesse nell'aprile del 2009 a Ponte di Piave, di maltrattamenti contro familiari e conviventi commessi nel 2017 nel milanese e di truffa commessa nel torinese nel giugno del 2019. L'uomo è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Venezia, Santa Maria Maggiore, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Si amplia il progetto di riqualificazione della ex scuola di Amicis storico stabile del centro di Mestre, confinante con la Torre Civica. La giunta comunale nella seduta di oggi ha infatti integrato i fondi per la ristrutturazione. L'intervento permetterà di ridare lustro a un edificio centrale della città abbandonato da tempo. L'intenzione al termine dei lavori è quella di insediare al primo piano l'ufficio Tributi e al piano terro la Casa della Città, un insieme di locali polivalenti aperti alla cittadinanza. Non solo, come spiegato dall'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, con la nuova progettazione è stato possibile individuare due nuovi percorsi fisici e visivi di collegamento tra Riviera Magellano e il fronte su via Sampio X. Questa rivisitazione permette di effettuare un recupero edilizio di forte valenza urbana che si inserisce nel quadro più ampio di un processo di rivitalizzazione di tutto il centro mestrino. Il progetto offrirà alla cittadinanza degli ambienti rinnovati e idonei allo svolgimento delle attività previste. Sono funzioni aperte con l'intento di allargare le attività della piazza con la zona di via Palazzo. Ai nastri di partenza la quarta edizione della Pink Padel Cup for Lilt, manifestazione sportiva a scopo benefico, il cui ricavato sarà devoluto alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L'appuntamento è in programma per sabato prossimo, dalle 9 alle 14, presso il Davis Plus Center, in via Santa Maria dei Battuti a Mestre. L'evento è stato presentato questa mattina presso il Municipio alla presenza della fondatrice Ilaria Edel Muzzati, la presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Armene Linda Damiano, la responsabile comunicazione istituzionale della Fondazione di Venezia, Paola Sartore, e il presidente Lilt Venezia, Carlo Pianon. Alla gara già sold out parteciperanno 40 atlete di varia età che indosseranno la t-shirt tecnica che l'Ilta ha dedicato al torneo. Sono contenta di aver visto crescere la pink, ha detto Muzzati, perché è nata come un momento di gioia e gioco fra donne sportive che non avevano ancora trovato una connotazione all'interno di uno sport nuovo come il padel. Abbiamo cominciato in maniera semplice e in piccola a creare eventi che mettessero in connessione i giocatrici. Quello che vogliamo, ha continuato, ora è far sì che un momento di svago possa essere utile a livello sociale e creare una connessione. I fondi raccolti nelle passate edizioni della gara sono stati destinati ad Avapo e al Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, mentre questa volta i 30 euro che ogni atleta verserà al momento dell'iscrizione saranno devoluti ai progetti della Lilt. Un murales che racconta una vita, una storia interrotta a 48 anni bruscamente, troppo presto, ma che ha lasciato tanti ricordi e anche tanti insegnamenti. È stato inaugurato al Parco Catene di Marghera dietro al locale Brandenbatter, un murales dedicato a Emiliano Gagliazzo per tutti Emi. Veneziano, Margherino, fiorentino d'adozione dopo aver perso la vista in seguito ad un incidente all'età di 26 anni, Emiliano iniziò un nuovo percorso non solo sensoriale ma anche di grande empatia verso chi già lo conosceva e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. L'idea è stata quella di far dipingere un murales realizzato da un writer, Andrea, che descrive la vita di Emi. Lui amava i tramonti, aveva molte rose nel suo giardino e amava i gatti. In una serata speciale in cui musica e immagini hanno preceduto la scopertura del murales, gli organizzatori di quello che è stato ribattezzato il primo Emi Day, oltre agli amici di Marghera, a quelli toscani e a tutti gli amici non vedenti e ipovedenti che Emiliano aveva incontrato nella sua vita, hanno dato vita ad un appuntamento per ricordarlo e non perdere quei legami che lo stesso Emi aveva creato con chi gli ha voluto bene.